Questo video riguarda i migliori tre macchine del pane. Il vincitore della qualità è il Kenwood BM450. Prima prepara l'impasto e poi lo cuoce, grazie alla funzione preparazione rapida. Permette di passare dall'impasto alla cottura in soli 58 minuti. Un timer aiuta a programmare l'accensione e l'esecuzione del programma impostato con partenza ritardata fino a 15 ore. Indicatore dello stato del programma di lavorazione, preriscaldamento, impasto, lievitazione, solo forno, riscaldamento. Programmi specifici per la preparazione del pane senza glutine e della marmellata, di impostazione programmata per la selezione del formato del pane scelta tra tre livelli di doratura. Permette di ottenere, a seconda del pane desiderato, una crosta più croccante, spegnimento automatico, luce interna, mantenimento in caldo fino ad un'ora. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il pane Express 1000. Nella macchina per il pane fatto in casa puoi scegliere gli ingredienti che preferisci e prepara pane integrale. Pane senza glutine, pasta per pizza e dolci. È ideale per gli intolleranti al glutine, perché potrai sostituire in qualsiasi preparazione la farina con glutine con quella di riso, di mais o che più preferisci. Puoi scegliere tra 19 diversi programmi per panificare quello che più ti piace, come pane, pizza, dolci, ma anche yogurt e marmellata. Puoi scegliere tra tre diversi gradi di doratura per cuocere a puntino il tuo pane fatto in casa e farlo proprio come piace a te. Con la macchina del pane potrai panificare in qualsiasi momento, grazie alla partenza programmata fino a 15 ore in ritardo, per avere il pane fresco quando vuoi tu. Il vincitore del premio è l'Ariete 132. Impasta, lievita e cuoce. Nella macchina per il pane fatto in casa puoi scegliere gli ingredienti che preferisci e prepara pane integrale. Pane senza glutine, pasta per pizza e dolci. È ideale per gli intolleranti al glutine, perché potrai sostituire in qualsiasi preparazione la farina con glutine con quella di riso, di mais o che più preferisci. Puoi scegliere tra 19 diversi programmi per panificare quello che più ti piace, come pane, pizza, dolci, ma anche yogurt e marmellata. Puoi scegliere tra 3 diversi gradi di doratura per cuocere a puntino il tuo pane fatto in casa e farlo proprio come piace a te. Con la macchina del pane potrai panificare in qualsiasi momento, grazie alla partenza programmata fino a 15 ore in ritardo, per avere il pane fresco quando vuoi tu. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento. Grazie a tutti.